La croce bizantina, un ponte tra il sacro e il storico. Nel vasto panorama dei simboli che hanno attraversato le ere, la croce bizantina emerge come un emblema di storia, fede e connessione spirituale. Questo simbolo, profondamente radicato nella tradizione cristiana, rappresenta non solo la fede, ma anche un'era di impero e cultura che ha influenzato il mondo per secoli. Origini e storia della croce bizantina La croce bizantina, con le sue forme uniche e distintive, ha radici profonde nella storia. Sebbene l'impero bizantino sia caduto secoli fa, la croce vive ancora oggi come la croce ortodossa russa e viene anche chiamata croce ortodossa o croce slavonica. Questa croce, pur avendo una struttura simile alla croce latina, presenta due caratteristiche distintive che le conferiscono un significato simbolico aggiunto. Caratteristiche e significato della croce bizantina La croce bizantina si distingue per due elementi chiave. Il primo è una seconda trave orizzontale sopra la principale, rappresentando la targa che i Romani avevano inchiodato sopra la testa di Cristo, che recitava «Gesù di Nazareth, re dei giudei». Questo sottolinea l'umiliazione e la sofferenza che Gesù ha subito durante la sua crocifissione. Il secondo elemento distintivo è una breve trave inclinata vicino alla parte inferiore della trave verticale della croce. Questo simboleggia il poggiapiedi dove i piedi di Cristo erano posizionati durante la crocifissione. L'aggiunta del poggiapiedi evidenzia il tormento fisico che ha sopportato sulla croce. Conclusione La croce bizantina, con la sua struttura unica e la sua storia ricca, è molto più di un semplice simbolo. È un legame con il passato, un ponte verso il futuro e un simbolo eterno dell'essenza spirituale dell'umanità. In un mondo in continua evoluzione, la croce bizantina rimane un faro di speranza, illuminando il cammino di coloro che cercano ispirazione e connessione con il divino.